La esigenza di rendere più stretto il rapporto tra il programma e i progetti e quindi di creare e di rafforzare anche la community euro-mediterranea di questo programma che si sta sempre più ampliando è anche alla base della ridefinizione in corso del nuovo sito web dove ci saranno le pagine, dove ospiteremo le pagine dei progetti le webpages dei progetti che saranno alimentate direttamente dai beneficiari e dai partners Ora, prima di portare via troppo tempo alle presentazioni dei miei colleghi vorrei ricordare, prima di concludere, che la partecipazione a questo programma